La qualità della sanità è legata sicuramente fondamentalmente alle qualità professionali degli operatori, alle strutture e anche ai modelli organizzativi che si scelgono. Quindi non basta avere degli ottimi professionisti o delle buone strutture, ci vogliono anche modelli organizzativi avanzati e la possibilità quindi di utilizzare al meglio quelle che sono attualmente le disponibilità che sono limitate. E poi è necessario comunque avere una prospettiva, cioè sapere qual è la prospettiva su cui si lavora e quali sono i punti d'arrivo di un progetto. Questo che noi presentiamo domani stabilisce un punto di arrivo che sarà il nuovo ospedale ma traguarda anche una serie di passaggi che possano permettere nell'attuale situazione critica di carenza quantitativa di posti di sostenere il percorso da qua ad allora. La qualità dell'attività clinica di questa azienda, adesso dico una cosa che avrete sento dire più volte, è stata testata sia dal Sant'Anna di Pisa che da varie agenzie come un'attività di livello molto alto in termini di efficienza e anche per quanto possibile valutare con i parametri eccetera in termini di efficacia. Quindi vuol dire che questa è già oggi un'attività clinica di qualità alta e noi sicuramente da questo punto di vista siamo in grado di garantirla. Esistono dei problemi di quantità che sono legati sostanzialmente alla carenza di posti letto che sono nella nostra azienda vicini ai 200, 350 e 200 posti letto come carenza. Ecco, in questo senso questa nuova organizzazione permette almeno in parte di sopperire a questa carenza di posti attuando modelli organizzativi diversi e mantenendo i livelli qualitativi attuali. Le itali hanno prodotto una crisi del sistema regionale ed è un problema che ci dobbiamo far carico. Il fatto di aver costituito sul nostro territorio cercando di fare in modo che tutti gli attori che lavorano all'interno di questo sistema si possano ritrovare all'interno di un'idea condivisa di sanità ha portato proprio a organizzare un'iniziativa incentrata su un modello organizzativo perché la questione della sanità territoriale poi si riduce a trovare dei meccanismi che consentano di riportare al centro dell'assistenza il cittadino. Oggi i modelli organizzativi della sanità, in particolare quelli liguri, quindi anche il nostro, risentono di un vecchio schema che risale a 30-40 anni fa e deve essere modificato. La proposta di andare verso l'intensità di cura è una proposta che nelle regioni vicino a noi dove il modello della sanità è un po' più avanti la stanno praticando con degli ottimi risultati. Decidere in un momento di difficoltà economica di intraprendere questa strada non solo dimostra la determinazione nel procedere al risanamento della sanità ma anche una lungimiranza perché stare vicino a chi sta vivendo un momento di fragilità con delle risposte dedicate, personalizzate, perché questo vuol dire intensità di cura, vuol dire costruire un progetto assistenziale sulla persona. La persona ha diritto quando entra in un presidio ospedaliero di uscire con un progetto che la racchiuda nella sua complessità. Normalmente si ha una patologia ma gli altri organi che compongono la persona ne risentono quindi gli ottimi specialisti che stanno all'interno della struttura devono essere messi in condizioni di operare al meglio. e costruire un modello organizzativo che li metta in queste condizioni si fa un servizio agli operatori che a loro volta lo erogheranno anche con più, diciamo così, in termini di valorizzazione della propria professionalità nei confronti del paziente.